Il pennello perpendicolare che è causa del fenomeno erosivo nel tratto di spiaggia centrale di Cologna a ridosso dei camping Stella Maris e Nino verrà rimosso. Il genio civile per le opere marittime della regione ha comunicato che a breve inizieranno gli interventi per portare via quei massi che erano stati sistemati lì nel 2010 in occasione dei lavori di ripascimento morbido. Nei giorni scorsi i tecnici della regione hanno eseguito una serie di rilievi batimetrici per studiare la situazione e confermare quindi quanto già da tempo sostenevano i proprietari dei due camping che negli ultimi cinque anni si sono visti ridurre la superficie in concessione De Magnale di oltre il 65%. La rimozione della barriera verrà da terra e non da mare come si pensava in un primo momento non si conosce ancora la destinazione degli scogli rimossi che qualcuno vorrebbe che venissero sistemati in mare per rinforzare quantomeno una di quelle barriere frangiflutti che si trovano a largo dinanzi ai due campeggi. L'intera operazione avrà un costo di oltre 50 mila euro per sistemare quel pennello all'epoca ne furono spesi circa 80 mila insomma soldi letteralmente buttati in mare. Comunque una volta rimosso bisognerà pensare a come risolvere il problema dell'erosione in questo tratto fare in modo che qui venga ricostruito la renile. Gli operatori locali sperano che la rimozione del pennello rimetta in moto le correnti da sud per riposizionare in modo del tutto naturale la sabbia ma sarà assai difficile visto che le ultime mareggiate hanno accentuato il dislivello tra la battigia e il marciapiede del lungomare. Gli operai del comune di Roseto sono stati costretti infatti a transennare altri due accessi oltre a quelli chiusi già due mesi fa. Il gradino che si è formato rappresenta un pericolo ma di certo non si potranno lasciare gli accessi sempre chiusi in vista della prossima stagione turistica.